buongiorno a tutti oggi si parte 11 settembre cosa facciamo? facciamo? intanto è il compleanno di poco il mio compleanno ok allora però ieri era il mio non compleanno e anche domani sarà il mio non compleanno oggi è il mio compleanno vabbè quattro passi sono già sfinito perché parlo allora oggi faremo il piccolo cheer il grande cheer e il pomeriggio relax e più avanti vi aggiorniamo ecco lì sei pronto? mi ci porti te vero? va bene ok a dopo questo è uno scorcio piccolo grande cheer insomma la giornata è buona speriamo anche negli altri giorni anche se il meteo non promette e qui invece abbiamo Pichadu e poi di là ancora c'è il boe che visiteremo nei prossimi giorni ok siamo arrivati dal passo Gardena ai piedi della stazione che circunnavighiamo questo termine marittimo vero? di qua è sicuro? si è di lì ci giriamo intorno bella figura andava a finire il magazzino ci giriamo intorno dopo di che 15 20 minuti di sentiero e dovremo arrivare al primo attacco che documenteremo chiaramente è quello che dobbiamo il primo che dobbiamo conquistare oggi di qua fa mezza impressione 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 bravissimo grazie a tutti ragosamente ragazzi 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 Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì.